Non si arriva più, non si arriva più, alla terza settimana non si arriva più. Il pannolino firmato da un autore, intervistato, studiato dai dottori, il rotocalco, una resina esclusiva, una poesia cantata dalla nostra diva. Una riviera da sudare, un mare sempre più marrone, uno spaghetto, un vino bianco, una mazzata, una strisciata tanto così per far serata. Un comico famoso per una cazzata, e 20 euro una birretta e l'insalata, un calice di vino, un santo produttore, le bollicine con la frutta. Gli straordinari, gli straordinari, gli straordinari. Tessic e mbratna macnade c'è persone, con un tagliando da quasi un milione, una barrista con il culone, rezzia una colazione, c'è più fila che ha le poste per favore. Nella giornata, l'insultino quotidiano, la comunione di mia figlia è una gara, proprio quando ci si separa, gli avvocati mediatori e redentori, è la giustizia che mi sa, che non ci sta, e che ti dà, che ti ridà, e che ci dà. Ah, la giustizia è un'apparente, che di notte ci sorprende, nel bel paese è una virtù che si pretende, smettiamola con gli italiani, brava gente. E un po' di culo soprattutto è necessario, all'elalotto, se vuoi esser milionario, un bel condono compro tutto con lo stucco, e ti ricordo che con la legge c'è sempre il trucco. Il viaggio con il mutuo non mi può mancare, l'estrato conto, sì lo so, è da bruciare il costo zero, che mi ha fregato, colerate, mi sento quasi licenziato. La passeggiata è un messaggio sessuale, tu guardi i tetti, non sai che cosa fare, così tua moglie che si cazza, tiri in faccia la tua razza e la tua panza, e vai, e vai, e vai, e vai, è necessario quel vestito nucleare, e l'ombrellone con gli strass, il riva al mare. Io non resisto, ma resisto, e me ne fischio, è ciò il cervello che lo sta cercando a chi l'ha visto. Io non resisto, ma resisto, e me ne fischio, è ciò il cervello che lo sta cercando a chi l'ha visto. Io non resisto, ma resisto, e me ne fischio, è ciò il cervello che lo sta cercando a chi l'ha visto. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? La pay tv, un figlio, un porno a tavola, lo sai che c'è, non so cos'è più un dialogo. Il mio rifugio è la mia mamma, la mia stanza, no, è la speranza, è la speranza, è la speranza. La giornalità 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 Carino infi sermone